finalissima coppa natale calci a sette open al centro sportivo sport promotion comasino di milano si affrontano lambangeles contro il puma team mazzo che carica al destro conclusione la chance al gol bugia porta in vantaggio il pubo team la girata del cobra con il pari bello libro al destro forse ho messo in galera attenzione lasciato per basso che evita il portiere 2 a 0 e il puma team c'è bene dal traffico viga allo sinistro e c'è il 3 a 0 e il puma team calcio di posizione battuto da pari bello brazzo palo incredibile passaggio che rega la palla pari bello lasciati pari bello che non sbaglia evitano di carica al destra deviazione gol è stato un tocco mette di bugia calcio di rigore trasformato vigneri destro vigneri la parata e poi il tap il vincente di filippone ponda di banzo ancora banzo che incrocia banzo la chiude lui con il 5 a 3 ancora poi bello prova a caricare il destro la traversa a vuoto rodigues pazzo poi il tocco la porta sbarrita rodigues evitato e c'è il 6 a 3 da parte di niccoli finisce il match e dunque il pubo team si aggiudica la coppa natale battendo 6 a 3 nella finalissima l'ambra angeles